Nessuna grande emozione, anche se ho dei ricordi bellissimi di quella squadra, di quella città, ma oggi sono del Bari, quindi ci tenevo a far bene, come tutta la squadra. Il Parma ha speso tantissimo sul mercato e primeggerà fino alla fine. Speriamo di farlo anche noi con loro. Positivo, non tanto per quello che si è visto in campo, siamo stati più che altro maturi, non c'è stato nessun acuto, però abbiamo portato a casa un pareggio contro un'ottima squadra che darà del filo da torcere a tutte. Siamo ancora lì, siamo nel gruppone e andiamo avanti, abbiamo fatto un passo avanti per quanto riguarda l'autostima e la maturità e ci servono queste partite per farci capire il senso di quello che facciamo. Nelle volte non si può vincere, si viene a casa con un punto e si va avanti con entusiasmo e pensando alla prossima. Non abbiamo concesso grandi cose a una squadra che è davanti a tre giocatori importanti per la cadetteria e soprattutto non aver preso il gol ci fa proseguire con grande fiducia su quello che stiamo facendo. Come dicevi tu non abbiamo avuto grandi acuti e quindi la partita si è giocata presso poco sulla metà campo con grandi tatticismi e anche agonismo, però portiamo a casa questo punto positivo e andiamo avanti. Ho fatto una buona prova attenta come chiede il mister, tutta la retroguardia ma anche tutto il centrocampo e l'attacco si sono sacrificati, tutti sotto la linea della palla e quando c'è questo, questo atteggiamento è tutto più facile.